10 dicembre. Si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il ricordo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. L'istituzione formale della giornata è avvenuta nel 1950. Sul fronte della difesa dei diritti umani l'Italia è impegnata ad attuare la risoluzione ONU 1325 del 2000 sulla salvaguardia dei diritti delle donne.